Sapete, ho sempre pensato una cosa. Ogni essere umano ha un lato oscuro. Ma cosa quindi ci differenzia gli uni dagli altri? Siamo tutti cattivi? No, semplicemente alcuni decidono di lasciarlo libero, altri riescono a tenerlo sotto controllo. Io ho cercato in questo periodo di essere come la seconda tipologia. Ho cercato di trattenere quella parte oscura di me. Ma fatti recenti mi hanno fatto cedere. Non sono più riuscito a trattenere questa parte oscura. Lui è qui. Bene, bene. Vi starete chiedendo cosa stia succedendo? Che cos'è questa recita mal riuscita? Lasciate che mi presenti. Io sono King Otaku. E sono quello che voi solti esseri umani chiamate lato oscuro di Lord Otaku. Pensate che quell'idiota si è anche ridotto all'ultimo per farmi la corona, nonostante sia programmato da mesi. E guardate che pagliacciata mi tocca indossare, porca di quella troia. Ma cosa ci faccio qui? Mi starete chiedendo. Beh, la risposta è molto semplice. Ho notato in questo periodo che quell'inetto si era mollito. Ora si chiede e si pone problemi del tipo ma questa cosa posso dirla o no? Se dico una bestemmia qualcuno potrebbe offendersi? Se dico parolacce qualcuno può... Scusate, ho avuto un attimo un conatto di vomito al solo pensiero di queste cose. Ovviamente io questi problemi non me li pongo. Anche perché oggi parleremo, come da titolo, del finale di Fairy Tail. Però Lord Otaku mi ha lasciato una raccomandazione che ho promesso di dirvi in cambio della mia presenza qui oggi. Ovvero che questo video sarà pieno di spoiler. Quindi se seguite il manga italiano interrompete adesso la visione. E io aggiungerei, tanto comunque la visualizzazione me l'avete già data, non me ne fotte proprio un cazzo se continuate o no. Partiamo da una premessa. Il finale di Fairy Tail fa cagare, è insipido, non sa di niente, nemmeno di merda, perché è un finale insapore. E adesso prenderemo questa frase, la snoccioliamo e ne capiamo il perché. Allora già da anni Fairy Tail è continuato non so come. Saghe insulse, personaggi inutili e intere saghe il cui apporto alla trama equivale a zero se non il prolungare la vita di questa presa in giro chiamata Fairy Tail. Quindi se fosse finito 100 capitoli e anche più, non sarebbe cambiato niente. Ma perché definirlo presa in giro? Perché 5 anni fa quando feci il mio primo video su YouTube appunto su Fairy Tail, peraltro vorrei sottolineare la coincidenza che l'anno dell'anniversario del canale corrisponde alla fine della saga di Fairy Tail, definì comunque 5 anni fa Mashima come un paraculo, perché non si prendeva la responsabilità di far morire un personaggio, perché in quel preciso istante succedeva quella cosa, quella coincidenza astrale che salvava tutto e tutti. E sapete qual è la cosa divertente? Che sono passati ben 5 anni ma le cose non sono cambiate, anzi sono peggiorate. Facciamo degli esempi per farvi capire che tragedia è stata Fairy Tail in questi ultimi anni. Ovviamente non sono in un ordine preciso, sono in un ordine di come me li sono ricordati e non andrò a citare la saga, il capitolo eccetera, perché quello ve l'arrangiate allegramente voi. Quindi, iniziamo dalla prima. Grey per salvare Juvia viene colpito da una serie di laser e addirittura uno proprio, pam, qua, in mezzo alla fronte. E ovviamente cosa succede? Muore! Cos'altro poteva succedere? Ma no! Perché in quel momento Ultiar ciccia fuori una magia che riavvolge il tempo, giusto giusto, quei secondi per far sì che Grey si salvi. Rimaniamo in tema, Juvia e Grey combattono per colpa di un incantesimo e sono costretti a combattere fino alla morte. Quella morire è Juvia con tutto quello che farebbe pensare alla sua morte definitiva, con addirittura la classica frase degna della classica morte da manga. Ma no, perché ovviamente capitoli dopo arriva Wendy che riesce a salvarla. Rimaniamo in tema di morti inutili. Abbiamo una grandissima morte, e con grandissima non intendo di un personaggio grandissimo, ma veramente studiata bene questa morte qua, mi sarebbe piaciuta un casino, ovvero quella di Gagil. Sa che sta per morire, ci fa tutto un pippone sulla sua vita, dichiara il suo amore a Levi. Ma no, perché arriva una tizia di cui non ricordo il nome, che appare in Fairy Tail Zero, quindi figuratevi che manco è apparsa nella saga principale, che lo riporta indietro, per poi sparire, boh, andando chissà dove, rendendo tutto inutile quello che è stato costruito prima in modo eccellente. E qua veramente incazzamento più totale. Ma questo è niente rispetto a quello che vedremo a breve. Natsu sta per morire, se non ricordo male per un tumore magico o qualcosa del genere, comunque sta palesemente per morire. Sono tutti disperati, lui è in coma. Al suo interno, all'interno di Natsu, lui deve scegliere per sopravvivere, se tenere il seme del demone, o il seme del drago. Lui dichiara che lui non è né uno né l'altro, che è un essere umano. Guarisce, nonostante non abbia fatto nessuna scelta, ma continua ad essere un Dragon Slayer. E qua nessuno si è accorto di questa contraddizione della Madonna. Oppure l'hanno spiegato e non me ne sono accorto. Cioè, se lui ha rinunciato a scegliere uno dei due semi, e ha rinunciato al seme del drago, non dovrebbe più essere un Dragon Slayer. Perché il seme del drago dovrebbe essere quello che hanno tutti i Dragon Slayer. Rinunciandoci, dovrebbe perdere anche i poteri. Durante le prime fasi del combattimento contro Ocnologia, decidono che per sconfiggerlo, bisogna mandarlo nelle rovine del tempo. Un luogo in cui nessuno, e sottolineo, nessuno, può tornare. Icia e Anna usano la nave dei Blue Pegasus per spingerlo dentro, insieme a loro. Lui ovviamente esce, perché è Ocnologia, quindi è il più forte di tutto l'universo, tutti disperati per il vano sacrificio, perché sono morti in vano, lui è ancora vivo, no, perché non si sa come, tornano pure loro. E infine, signori, le prese per il culo più grandi, le due prese per il culo più grandi mai studiate. Iniziamo dalla prima. Durante il combattimento finale, Zeref e Mavis muoiono insieme, perché erano destinati a stare insieme, si erano amati nella vita, quando poi, anche dopo tutto quello che è successo, e loro si amavano, perché alla fine quello che conta è l'amore, quindi sono passati al di là di tante cose, di... del loro odio, ma alla fine l'amore ha vinto, e si sono accettati per quello che erano, e quindi sono morti assieme. E loro si amavano e basta. E... invece no, perché ricompaiono nel capitolo finale, dove si rincontrano, e a quanto pare hanno semplicemente perso la memoria. E non si tratta nemmeno di una reincarnazione, perché è passato poco, troppo poco tempo, e non si tratta a quanto pare nemmeno di una cosa spirituale, dei loro fantasmini che si sono rincontrati. E qui tenetevi forte, perché per quest'ultimo, proprio bisogna tenersi saldi alla sedia, perché veramente è il livello più basso che abbia mai raggiunto Fairy Tail. Pronti, eh? Durante il combattimento finale, tra Zeref, il suo esercito, Fairy Tail, tutti i maghi, bravi, tutti belli, eccetera, eccetera, Makarov muore. Ci sta. È una cosa che ci aspettavamo fin dai primi combattimenti, proprio dai primi capitoli che Makarov sarebbe morto. E tutti disperati per la morte di quello che per loro era un padre. Non bestemmio, perché è quasi una bestemmia, eh? Però non la paragono. Però possiamo fare delle similitudini con la morte del terzo Kage in Naruto. È una bestemmia perché veramente quello lì è al... Terzo Kage in Naruto è alto livello. Qua no. Però più o meno è la stessa cosa, ovvero, questa figura anziana, paterna, che comanda, che protegge, quindi più o meno facciamo... sbilanciamoci, facciamo questa bestemmia, facciamo un paragone, no? Quindi, noi lo vediamo morto per 20 e forse più capitoli, quindi veramente lo crediamo morto? Ma no, perché questo stronzo, no, non è morto. Che è un personaggio che letteralmente per tutta la serie sembrava dover morire ogni volta che combatteva, tutti a dire, Oh mio Dio, sta morendo! Oh mio Dio, è anziano e malato! Oh mio Dio, ci lascia le penne? No. È morto per una madonna di capitoli. Siamo stati illusi. Per una madonna di capitoli, veramente, se qualcuno ne ha voglia, vi invita ad andarli a contare? Tutti disperati, piangenti, perché si pensava al prossimo successore, oddio, Ersa che piange, Eratsu che piange, Lucy che piange, sto cazzo che piange, quell'altro cazzo che piange? E Cristo, questo qui è ancora vivo. Cioè, veramente, questo, signori, è non volersi prendere la responsabilità delle proprie azioni e delle proprie scelte. Perché tu non puoi far morire uno e trovare sempre quella paraculata che lo salva ogni cazzo di volta. E questa cosa che è successa con Makarov è letteralmente imperdonabile per chiunque abbia letto Fairy Tail. Da colui che l'ha letto un po' così alla veloce, al fanboy più sfegatato con le fette di prosciutto sugli occhi che non vede a un metro di distanza dal suo naso. Quindi, se cinque anni fa definivo Mashima un paraculo, adesso lo definisco semplicemente come uno stronzo. Poi, ovviamente, parliamo della battaglia finale. Essendo uno shone ne non possiamo non parlarne. Abbiamo Auknologhia, un personaggio che pure Zeref, che fin dai primi capitoli viene nominato come il mago più forte mai esistito, si cagava addosso e diventava una fighetta. L'essere più forte del creato dove niente, nessuno poteva contro, nessuna magia poteva scalfirlo. E quanti capitoli dura la battaglia con i Dragon Slayer? Massimo cinque? Cazzo, veramente, proprio degno di Bleach. Vedo che Kubo insegna bene. Poi, perché Auknologhia faccia così? Boh, vediamo una piccola vignetta prima che possa morire, che ci fa capire un qualcosa, il perché del suo odio verso i draghi. Ma poi, effettivamente, perché sia così? Come sia diventato così? Ma sì, chi se ne frega, non perdiamo tempo con un flashback che poteva essere interessante. Lo facciamo sconfiggere da Natsu che usa i poteri da Dragon Slayer nonostante ci abbia rinunciato e da una Genki Dama fatta da Lucy e da tutti i maghi. E... Boh, un fine. Che cazzo ce ne frega a noi? Ma parliamo adesso dell'ultimo capitolo vero e proprio. L'ultimo capitolo di Fairy Tail è inutile. Non serve a niente. È utile come un culo senza il buco. Perché è semplicemente un riassunto di tutte le coppie che si sono formate. e basta. Questo sta con quella. Tra di loro c'è interesse. Una Lisanna che doveva essere la rivale di Lucy per Natsu perde le bave chissà perché per Luxus. Peraltro Lisanna personaggio violentato da Mashima perché aveva del potenziale della Madonna ai fini della trama ma dopo Edoras è diventato un personaggio secondario di bassissimo livello e fine. Quindi l'ultimo capitolo è semplicemente una lista della spesa di tutte le coppie che si sono formate e delle relazioni amorose. Ma direi che sono proprio varsi tutti questi undici anni di attesa proprio un modo degno di chiudere la saga. E qui veramente mi voglio fermare perché ripeterei le stesse cose. Purtroppo Fairy Tail è un'altra serie che amavo non ai livelli di Bleach e di Naruto però mi aveva parecchio intrattenuto in passato soprattutto l'anime poi se pensate che l'icona del canale l'avatar del canale fino a pochi mesi fa era Elsa Nightwalker quindi per quasi cinque anni è rimasta Elsa Nightwalker quindi anche questa volta fidatevi non sono un hater che gode nel parlarne male anzi quindi un'altra serie che amavo che è finita in maniera schifosa e allo stato attuale non pensavo che mai l'avrei detto che mai l'avrei pensato lo dico pubblicamente questo soprattutto veramente incontrare il me stesso del passato per poterglielo dire in faccia e vedere che espressione fa ma il finale di Naruto è quasi bello in confronto a quello di Fairy Tail e di Bleach Bleach ovviamente è peggio di Fairy Tail Bleach è stato uno dei punti più bassi della storia dei manga degli ultimi anni quindi quello è in dubbio ma diciamo che ha fatto scuola Iromashima con un combattimento finale ridotto all'osso con una trama inconcludente perché assolutamente non mi dice niente con una lezione che è banale da far schifo veramente di una banalità mostruosa ovvero che l'amicizia vince su tutto e su qualsiasi cosa e infine un autore fighetta che non vuole sporcarsi le mani facendo morire alcuni dei personaggi ci sarà un seguito da quello che ha detto Iromashima se non ricordo male lui vorrebbe andare avanti lui vorrebbe iniziare una nuova produzione quindi vuole prendere altre strade ma se lo conosco bene ci saranno una madonna di spin off e magari anche qualche spin off sequel quindi non proprio un fairy tale 2 ma un volumetto un paio di capitoli post fine fairy tale sicuramente ci saranno intanto quello che so di sicuro è che su quattro manga che seguivo settimanalmente tre sono finiti di merda uno peggio dell'altro a quanto pare sto diventando troppo pretenzioso io nel chiedere dalle grandi saghe un grande finale ora veramente la mia unica speranza rimane One Piece quindi Oda ti prego almeno tu salvati e salvami da un altro finale di merda e da un altro video dove mi incazzo perché quasi non ne ho più voglia quasi quindi questa era la nostra opinione sul finale di fairy tale dico nostra perché è la stessa identica di lord otaku solo che lui evidentemente non aveva più le palle quel verme viscido insetto schifoso non aveva più evidentemente le palle per dire determinate cose quindi è toccato al sottoscritto però purtroppo il mio tempo qui è finito ma tornerò quando ci sarà da incazzarsi nel frattempo però ricordate sempre una cosa all hail king otaku a a che a 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 Grazie a tutti